La speranza è, oltre che responsabilità, che verità, che pazienza, questa speranza che è l'altro nome della felicità, la speranza, come soprattutto abbiamo visto nell'ultima puntata, è anche saper denunciare. Pensate all'operato, all'azione di tutti i profeti, i profeti dell'Antico Testamento, un'azione di denuncia continua perché la speranza tornasse ad abitare l'uomo e perché la speranza tornasse a liberare l'uomo, perché la speranza tornasse ad essere lo stile di vita dell'uomo. I profeti ci hanno insegnato che l'uomo di speranza, l'uomo di verità, l'uomo che è coraggioso, è capace di denunciare, ma non per il gusto di denunciare, no, ma per il gusto della verità. È la verità, ed è nella verità che c'è la libertà, come ci ricorda Giovanni, ma è anche nella verità, è nella libertà che c'è la speranza e da tutto ciò nasce e si produce la felicità. Quindi la denuncia. Quando noi pensiamo al coraggio e alla speranza, alla capacità di denunciare, di essere profeti, dobbiamo anche pensare che la profezia, per quando nelle sue parole possa essere veemente forte, per quando possa dare e deve dare anche fastidio, deve inquietare, la profezia è sempre mitezza. Perché noi che siamo tutti profeti nel battesimo, dobbiamo comprendere che il Signore vuole cambiare questo mondo attraverso di noi, ma non mediante uomini e donne violente, no, la vera rivoluzione è quella non violenta, la vera rivoluzione è quella dell'amitezza. Il Signore vuole cambiare il mondo cambiando il cuore degli uomini attraverso uomini e donne miti, ma miti forti, coraggiosi, testimoni di speranza e proiettati a dare al mondo felicità. Gesù vive in me perché in me, attraverso di me, possa sconfiggere i nemici dell'uomo. E quali sono questi nemici dell'uomo? La violenza, l'egoismo, l'individualismo, lo sfruttare le persone, oltre che l'ambiente, il potere a tutti i costi. La schiavitù è l'idolo del denaro, la schiavitù è l'idolo del successo, la schiavitù è l'idolo del contare sempre, della visibilità ad ogni costo, la schiavitù del protagonismo. Quanti nemici abbiamo dentro? Bene, questi nemici, che possono far parte di macrosistemi o di microsistemi, questi nemici vanno sconfitti con la forza dell'amitezza e della testimonianza, della non violenza, della denuncia e della profezia, facendo piccoli gesti, pienamente umani, pienamente evangelici, piccoli gesti di verità e di liberazione, in se stessi e negli altri. Vi aspetto domani, Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao! Grazie a tutti!